Buonasera e benvenuto da Antica Torre. Ha una prenotazione? Buonasera. No, ne ho bisogno. Niente affatto. In quanti siete? Sono solo io. Allora, tavolo per uno? Sì. Va bene, mi segua per favore. Ecco qui il suo tavolo. Grazie. Mi dì un attimo per dare un'occhiata al menù? Certo. Dovrei informarla che il piatto del giorno è di Roma. Caccio e pepe. Grazie. Mi serve un momento per decidere. Allora, per cominciare, prendo un'insalata mista, poi la bistecca fiorentina come primo piatto, con un po' di bruschetta, caccio e pepe come secondo, come dolce i darmisù e un cappuccino. Lei deve essere americano. Sì. Come lo sapeva? C'erano alcuni segni. Ad esempio? Scusi signore, un piccolo consiglio. In Italia si mangia prima la bruschetta come antipasto, la pasta come primo piatto, la carne come secondo piatto, un'insalata per facilitare la digestione e poi si finisce con il dolce e il caffè, ma non si prende mai un cappuccino dopo il pranzo. Le consiglierei un caffè corretto. Non sapevo che ci siano così tante regole da seguire. Grazie per il consiglio. Si figuri. E per la bistecca come la vuole? Al sangue? Ben cotta, per favore. Oh, mamma mia! Ma cosa devo fare con lei? Buon. Buon. Grazie.